Fare pulizia significa eliminare la polarità energetica che abbiamo attribuito a un determinato fatto e renderla neutra. Quindi quando noi lavoriamo sui ricordi, sulle memorie si dice, le memorie sono il ricordo appunto di situazioni che abbiamo vissuto in passato e che in passato ci hanno fatto stare bene o ci hanno fatto stare male. Noi normalmente lavoriamo su ciò che ci ha fatto stare male. Quando è accaduto qualcosa che noi abbiamo catalogato come negativo perché appunto ci ha fatto stare male, abbiamo attribuito a quel fatto una valenza negativa. Quando facciamo pulizia con lo ponopono noi non cancelliamo il ricordo di ciò che è accaduto, cioè non è che facciamo pulizia e ci provochiamo una sorta di amnesia. No, il ricordo rimane, rimane la nostra consapevolezza di quello che è accaduto. Quello che cancelliamo è la polarità energetica che abbiamo attribuito a ciò che è accaduto. Quindi se, un esempio banale che faccio sempre ma che mi sembra abbastanza chiaro, se da bambina io sono stata picchiata da un bambino con i capelli rossi, il mio subconscio che è logico e prende ordini e che quindi associa semplicemente un fatto a ciò che mi ha provocato emotivamente, il mio subconscio associerà alle persone con i capelli rossi la sofferenza perché appunto sono stata picchiata da un bambino con i capelli rossi. Quindi io mi ritroverò ad essere incomprensibilmente diffidente di tutte le persone con i capelli rossi. Il motivo c'è perché sono stata picchiata da piccola e il mio subconscio ha detto bambino con i capelli rossi sofferenza, persone con i capelli rossi vanno evitate e quindi farà tutto quello che può per mettermi in condizione di evitare qualunque tipo di relazione con le persone con i capelli rossi. Capiamo bene che se io da attore di lavoro ha i capelli rossi potrebbe cominciare ad essere un problema. Quindi cos'è che fa Ho'oponopono? E la cosa bellissima di Ho'oponopono è che lo fa senza bisogno che io mi ricordi che sono stata picchiata da un bambino con i capelli rossi. Ho'oponopono con la sua pulizia mi permetterà di trasmutare, di superare la mia diffidenza nei confronti delle persone con i capelli rossi senza bisogno di andare a individuare la causa ancestrale diciamo così che ha provocato questa mia diffidenza nei confronti delle persone con i capelli rossi. Ecco è un esempio scemo però penso che faccia comprendere abbastanza bene diverse cose. Quindi questo è ciò che fa Ho'oponopono. Makala Yeats dice è come versare una tazza d'acqua sporca nel mare cosmico. Nel momento in cui noi versiamo l'acqua nel mare il mare stesso purifica anche tutte le scorie di quella tazza. A volte succede che cominciando a praticare Ho'oponopono nello specifico ma è qualcosa che succede con qualunque tipo di pratica efficace può capitare che le cose ci sembri che peggiorino invece che migliorare. Allora questo è dovuto a due tipi di fattori. Uno è due tipi di fattori che però molto spesso si lavorano contemporaneamente assieme. Uno è la resistenza dello stato di comfort. Quando noi cominciamo a praticare un processo evolutivo efficace mettiamo in dubbio il ruolo del nostro ego. Cioè riuscire a trovare una pratica spirituale efficace è un percorso che ci porta a ridimensionare il nostro ego. Il nostro ego se ne rende conto benissimo e teme questo. Quindi mette in atto la resistenza dello stato di comfort appunto. Si aggrappa allo status quo, alla situazione che stiamo vivendo e fa tutto ciò che ha in suo potere per evitare che noi lo strappiamo via dalla situazione in cui lui ha trovato il suo modus vivendi perché sa che verrebbe ridimensionato. Ecco che vengono messi in atto tutta una serie di autosabotaggi che ci tengono relegati nella nostra zona di comfort. Cioè non ci permettono di evolvere. In questo caso è importantissimo continuare a praticare ciò che abbiamo abbiamo scelto di praticare perché nel momento in cui arriviamo a fare il click, arriviamo a fare il passo che ci porta appunto fuori da questa situazione, da quel momento in poi vedremo veramente la nostra evoluzione. Ma dobbiamo riuscire a tenere duro quel tanto che ci permette di fare click appunto. Questa è una delle cose che possono accadere. L'altra è che quando noi cominciamo a praticare Ho'Ponopono nel particolare, ma davvero qualsiasi pratica efficace, noi stiamo eliminando dalla nostra interiorità tutte le scorie che abbiamo accumulato. Scorie energetiche ovviamente che stanno manifestando la situazione che noi stiamo vivendo. Soprattutto quando noi stiamo vivendo una situazione che non ci piace, che ci fa stare male, significa che abbiamo una certa quantità di disarmonie che si stanno manifestando nella nostra realtà. Noi ce le abbiamo quelle disarmonie dentro. Per quanto decidiamo di fare Ho'Ponopono con serietà, con costanza, con la voglia di crescere. Quelle scorie ce le abbiamo dentro e si stanno già manifestando. Ma oltre a quelle scorie che noi vediamo nella nostra vita, quando appunto abbiamo situazioni che non ci piacciono, molto probabilmente abbiamo tutta una quantità di immondizia, passatemi il termine, che è depositata dentro di noi e che prima o dopo nella nostra vita, rimanendo lì, si potenzia e manifesterà nella nostra vita cose sempre meno facilmente gestibili. Quando noi mettiamo in pratica un processo efficace e importante, come può essere Ho'Ponopono, andiamo proprio a smuovere quelle scorie e le facciamo venire a galla subito. Cioè non le lasciamo lì a sedimentare e quindi ad espandersi e le lasciamo appunto avvelenarci la vita momento per momento per i prossimi tot mila anni. Le affrontiamo subito e le facciamo venire fuori. Nel momento in cui queste scorie vengono a galla ci pare che stiano facendo il finimondo. In realtà stanno facendo qualcosa che farebbero di molto peggio se le avessimo lasciate là nel tempo ad amplificarsi appunto. Però il farle venire fuori tutte adesso, proprio quando avevo deciso di fare un percorso spirituale di crescita con la convinzione che sarei stata bene, mi accorgo invece che vengono fuori queste cose qui. Anche in questo caso la cosa fondamentale è non lasciarsi abbattere e continuare a continuare sulla strada di questo nuovo processo che abbiamo intrapreso perché sostanzialmente è un po' come se noi avessimo un contenitore incrostato di sporcizia e lo mettiamo sotto l'acqua, sotto un rubinetto di acqua limpida. Quando noi cominciamo a buttare l'acqua dentro il contenitore un po' alla volta queste scoriette cominceranno a venire a galla. Più noi buttiamo acqua pulita dentro il contenitore più le scorie si staccano e a un certo punto quelle più grosse verranno a galla e sarà una brutta situazione. Ma se noi continuiamo a versare acqua nel contenitore un po' alla volta tutte queste scorie traboccano e se ne vanno. E se noi continuiamo a buttare acqua pulita dentro il contenitore e evitiamo di riempirlo di ulteriori scorie un po' alla volta il contenitore si riempirà di acqua pulita. A quel punto sarà proprio il momento in cui avremo raggiunto la nostra pace interiore duratura ed efficace ed effettiva. Ma ci vuole costanza, ci vuole caparbietà, ci vuole crederci, ci vuole esserci, ci vuole farlo. Farlo con gioia e entusiasmo e soprattutto fiducia, fiducia profonda in noi stessi e nelle nostre enormi potenzialità.